Petunia, una gatta a tricolore, era arrivata al canile di Arezzo lo scorso gennaio con un trauma cranico, la frattura dell'omero ed incinta. Il 15 marzo ha dato alla luce con un parto cesario la sua gattina. Il cuore di Petunia però è davvero grande, dopo aver partorito ha infatti accolto anche tre micini abbandonati. Una settimana dopo hanno trovato tre gattini buttati dentro la spazzatura, chiusi dentro un sacchettino, gattini di un paio di settimane che noi abbiamo dato a Petunia e Petunia li ha presi subito, li ha lattati, li ha curati subito e quindi la figlia unica si è trovata con altri tre fratellini. Come ogni primavera è scattata l'emergenza a cucciolate e abbandonate tanti gattini che si trovano al canile di Arezzo. Siamo già pieni di gattini, quest'anno però fortunatamente sono arrivate soprattutto gatte, già incinta o trovate con gattini appena nati, veramente veramente brave. Infatti quest'anno, come tutti gli anni, però quest'anno principalmente vorremmo trovare casa anche alle mamme perché sono veramente bravissimi, di una dolcezza unica, belle, giovani e sono delle mamme fantastiche. Al canile purtroppo arrivano anche cucciolate lasciate senza mamma, da qui l'appello per trovare balie. Cerchiamo balie umane disposte a portarsi a casa i gattini, noi forniamo latte, biberon e tutto il necessario e una volta svezzati li riprendiamo e cerchiamo adozione. Qui ci sono tanti gattini che cercano una famiglia, ricordiamo l'adozione consapevole e la sterilizzazione. Sì, assolutamente, noi li diamo con l'obbligo di sterilizzazione sia i maschi che le femmine. C'è già qualche gattino pronto a cercare una famiglia? Sì, dalla prima settimana di maggio faremo venire le persone a vedere i gattini e a sceglierli e abbiamo già due barra tre cucciolate che per metà maggio possono andare a casa.